Gentili dei spettatori dei protagonisti in compagnia di un direttore artista che ho scoperto stasera lui ardito, eclettico, lui è il campano Pasquale Sposi, innanzitutto ciao e benvenuto Buonasera, grazie Ci incontriamo in questo fashion party dove rivisitate l'epoca dell'inascimento un'epoca a me molto cara che ha visto spazi, mutamenti, cambiamenti notevoli con delle dive, delle icone dalla borgia alla sfarza, no? un moody style veramente grintoso, pulsante, un po' come questi abiti, queste ragazze dimmi, la scelta com'è arrivata? La scelta è arrivata ad un messaggio preciso che abbiamo voluto mandare in un periodo come questo, difficile, dove c'è bisogno di una rinascita poiché il rinascimento è stato proprio questo abbiamo attinto proprio da questi personaggi importanti, storici per creare su quelle linee abiti contemporanei e quindi lanciare il messaggio di puntare magari sulla creatività e sui nostri talenti per un rilancio mondiale del Made in Italy Appunto, però, tu una ricercatezza di tessuti, di colori un mix che trapassa un po' il contemporaneo col passato infatti vedo le fanciulle qua che ci ornamentano in maniera divina e non c'è un attimino insomma sì, allora, i colori ovviamente sono quelli principali sempre dell'epoca rinascimentale dal bianco al rosso al blu ma il tutto è rivisitato in chiave contemporanea quindi i ragazzi si sono ispirati nelle forme magari nelle maniche, nei fianchetti larghi ma l'hanno riproposto in chiave completamente contemporanea e quindi per una nuova donna una donna comunque importante che vuole sentirsi importante e protagonista Appunto, le donne come di allora che ti enunciavano sempre all'altezza della situazione d'impatto con una personalità estremamente ferrea e da lì spaziare in toto lungo tutti i vari tessuti sociali voglio farti complimenti poi dopo recuperiamo e ci riprendiamo sulla passarella e facciamo un quadro plastico alla fine, va bene? Grazie mille, grazie